eccoci di nuovo ragazzi con la penultima apertura mmm sono sempre più buoni le volte che lui purtroppo in questi pezzi questa apertura pezzi mangerà beh allora questa si apre male mi sa si apre male questa cosa ci vogliamo fare mamma mia ce la farò allora intanto qui c'è l'inizio team spirit inizio a pensare che la tua teoria potrebbe essere sbagliata e poi l'altra volta c'aveva i boccati bull è gialla teoria è sbagliata l'oro che mi dicevo invece era giallo infatti si avevamo provato ragazzi anche con la torcia si vedeva il giallo però io speravo sia un oro e c'è proprio giallo sperai allora vediamo un po' chi c'è qui dentro passiamo dalla bottiglia la bottiglia è così non so chi sia qui c'è la bottle no la spatolina ah ho capito già chi è dal collarino sembra un alliello la pallina allora aspettate e si è E.T. e si eccola qua E.T. E.M.I.T. è il gattino di come si chiama oddio adesso non mi viene in mente la roller skater forse si della prima serie allora vediamo un po' se fa pipì no non fa pipì aspettate che le metto già questo qui non fa la piscia mamma mia ok beh mi sembra ovvio che non può fare pipì da lì cioè è logico i gatti da quando qua pisciano dal collo cioè non è logico cosa gli togli a fare la testa perché è ovvio che non può pisciare gli uscirà dal sederino piccolino vabbè loro sono tutti particolari anche tu grazie allora vediamo sei un pezzo anche a te un pezzo faccio direttamente così ragazzi io questa credo che se non mi ricordo male avevo visto mi pare un'apertura c'aveva dei pattini infatti mi ricordo bene questa sabbia delle palle evite a volte miracoli delle palle non si dicono parolacce ovviamente ragazzi queste andranno pulite perché c'è tutta la sabbia dentro buttaci l'acqua vabbè poi andrò a pulirle mi chiedo perché non hanno messo la plastichina come nelle americane perché gli americani saranno più decinti degli italiani eh mi sa mi sa tanto di sì vabbè ragazzi poi magari quando le metterò i pattini e l'avrò pulita vi farò una foto finale per farvi vedere com'è perché altrimenti questo video durerà un'eternità e mezza niente con Marco che mangia sto finendo tra l'altro noi ci vediamo alla prossima usato ciao ragazzi ciao 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 ciao